esistono delle storie che circolano nei bassi fondi di internet che effettivamente forse è meglio non sapere mi sono interrogato a lungo sul se parlarvi o meno di questa storia però penso che sia così tremendamente traumatizzante che non possa che stare su questo canale quindi buonasera visualizzazioni e benvenute in una nuova puntata di sottobosco probabilmente mi vedete un po diverso al solito un po più pacato un po più tranquillo perché questo perché oggi voglio raccontarvi una di quelle storie che veramente se la batte se non alla pari quasi con desi destruction vi ho già parlato di questo filmato che circola nei bassi fondi di internet specialmente nel dark web e il video lo trovate qui sopra nelle schede però ovviamente non starò qui a ripetermi la storia ve l'ho già raccontata cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando quel video lì desi destruction è un video che vede come protagonista delle bambine alle quali viene fatto il peggio del peggio del peggio da alcuni dei più grandi pazzi che sono mai stati messi su una pellicola quel filmato ha girato tanto l'fbi se ne è occupato se ne sono occupati tutti i principali servizi di sicurezza che abbiamo al mondo e peter scalli la persona che è stata artefice di questo orrore è stata presa quell'uomo era un mostro molto probabilmente sì ma neanche c'è da dire molto probabilmente sicuramente una persona che commette quelle atrocità è un mostro sanguinario ma sappiate che desi destruction è una delle storie più soft che circolano adesso sappiamo tutti quanti che quel filmato è vero ok non è una creepypasta non è un qualcosa di inventato e ve ne ho già parlato quindi sapete benissimo che è un qualcosa di successo purtroppo è cronaca nera ma nera 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 ragazzi nirissima oggi voglio parlarvi di una storia simile e vi metto in guardia ragazzi il video di oggi è un trauma sentirlo veramente un trauma non andate avanti nella visione del video se non vi sentite pronti se volete dormire stanotte soprattutto e se temete che possa turbare la vostra tranquillità perché vi assicuro la turberà tantissimo prima di mandare la sigla voglio darvi un attimo un'infarinatura di quello che vedremo oggi perché dobbiamo capire un po' l'ambiente in cui ci troviamo come vi ho detto ci troviamo nel dark web che è la versione cattiva e illegale di quello che è il deep web è una grossa parte del deep web tra l'altro ed è lì che vengono svolte le peggiori cose ma ve ne parlerò dopo la sigla per adesso ragazzi voglio soltanto ringraziare tutte le persone che stanno acquistando il merci sotto bosco sono veramente contento che vi stia piacendo se volete anche voi dare una mano al canale e ritrovarmi in mano un bel prodotto come per esempio questa maglia di sotto bosco avete il link in descrizione ve lo metterò anche qui sopra nelle schede non è un problema vi faccio tutto quanto in questo caso non ero sicurissimo di trattarlo però mi è stato suggerito da una persona su instagram che mi ha gentilmente chiesto di trattare questa storia ci ho riflettuto un po' perché effettivamente è molto molto cruenta però alla fine ci ho riflettuto e ho accettato adesso ragazzi io non so se questo video avrà limiti di età non so se avrà effettivamente perché se li merita sto video qui senza dubbio penso di averci incischiato anche troppo e adesso mandiamo la sigla ok ragazzi allora tra poco vi racconterò questa storia ma prima dobbiamo dargli un contesto perché saperla così all'acqua di rose non serve a niente ci troviamo all'interno di quella che è la sezione più malsana di internet ovvero il dark web che è la parte del deep web dove vengono svolte la maggior parte delle azioni illegali al mondo quello che però mi dà fastidio quando sento parlare di dark web e sicuramente dedicherò un video apposito per trattare nel dettaglio tutte le cose che vengono fatte qui dentro insomma quello che mi dà fastidio è che quando ne sento parlare sembra una barzelletta veramente ah sì potresti comprare delle cose che non potresti no no ragazzi quelle sono le cose sceme quelle sono le cose che magari ci fa il video lo youtuber che fa tutt'altro e quindi vede un po' la crivipasta sì va bene suggestivissimo ma non quanto la realtà il dark web è quel posto in cui tutta la fogna dell'umanità si riversa e soprattutto dove le persone più importanti si riversano per fare le peggio cose adesso una delle tante cose che si possono trovare in questo ambiente sono video illegali sono video in cui vengono fatte le peggio cose alle persone e in particolare alle più deboli e quali saranno mai le persone più deboli che possiamo avere nella nostra società? i bambini non ci vuole un genio per arrivarci i bambini sono le persone più deboli che esistano alla fin fine si trovano nella loro fase di sviluppo si trovano ad assorbire tutto quello che arriva e se quello che arriva arriva dal dark web è brutto perché quei bambini rimangono traumatizzati a vita e ne sono le prove tutte le vicende che sono successe a danni di bambini sul dark web è pieno ragazzi, è pieno 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 purtroppo tante di queste non sono molto conosciute però oggi voglio farvene conoscere una la storia che si intitola Baby Burger si tratta di un filmato un filmato che si dice esista o sia esistito sul dark web che in realtà non è neanche più di tanto peggio di tante cose che sono state fatte e ricordate il fatto che vi sto dicendo che non è più di tanto peggio di certe cose che sono state fatte perché dovrete ripensarci quando saprete la storia effettiva quindi non volendo neanche vedere di entrare in possesso neanche di un video ispirato a questa storia io in sottofondo vi metterò un video che può dare più o meno l'atmosfera però la storia ve la racconterò senza filtri vi racconterò quella che è la versione ufficiale di questa storia però non rimaneteci troppo male perché questa è la realtà di alcune cose che avvengono nei bassi fondi di internet perché è tutto bello fino a che hai in mano soltanto Instagram e Whatsapp quando vai più sotto sfoci in quella che può essere definita come la vera essenza dell'umanità detto questo io non mi dilungo oltre e vi lascio alla storia il video inizia all'interno di una casa dove una donna in cucina tiene in braccio il suo bambino il bambino in questione è molto piccolo l'età non è proprio precisa però non più di uno o due anni fuori dalla finestra si vede un'auto bianca parcheggiare vicino all'abitazione dopo pochi minuti entrano due uomini mascherati che rapiscono madre e figlio la videocamera che alcuni dicono essere la fotocamera di uno smartphone si spegne per qualche secondo quando il filmato riprende si può vedere come i due individui mascherati abbiano portato la donna e il bimbo all'interno di un bosco uno dei due scende dalla macchina e porta con sé gli ostaggi lega la madre di un albero e mette il piccolo sdraiato su un tavolo già presente sulla scena il secondo uomo mascherato copre la videocamera o fotocamera con un panno giallo e da questo momento inizia l'orrore nella sua forma più crudele gli aguzzini iniziano ad abusare del bambino mentre si sentono oltre ai lamenti della vittima le grida disperate della madre viene tolto lo straccio giallo e le immagini tornano nitide i due uomini ridono soddisfatti mentre il piccolo giace a terra visibilmente tumefatto sulla scena a questo punto compare un ultimo terrificante protagonista un tritacarne di notevoli dimensioni uno dei due mascherati afferra il bimbo per una gamba e dopo aver azionato il macchinario spinge il piccolo dentro il trituratore la videocamera inquadra il sangue che schizza ovunque la donna sviene per il trauma e la carne della vittima esce dalla bocca del macchinario carne che poi verrà mangiata dai due uomini mascherati dal finale è possibile immaginare il motivo per cui il titolo del video sia appunto baby burger il filmato terminerebbe con gli aguzzini che banchettano festanti con quello che rimane della piccola vittima bene ragazzi bene per modo di dire la storia adesso la sapete è una storia veramente traumatizzante non poco ma vorrei dirvi un attimo che cosa ne penso io prima di chiudere effettivamente il video io penso che questa storia sia molto verosimile come abbiamo visto molte volte all'interno delle puntate di Sottobosco insomma non sono così nuove vi ricordo a Natalie Moskin il tizio che imbalsamava bambine e se le metteva in salotto cioè ne sono esistite tantissime di queste persone che fanno anche di peggio ma nonostante un sacco di gente dica che questa qui sia soltanto una creepypasta questa sia soltanto una storia così di finzione secondo me è un qualcosa che potrebbe essere tranquillamente stato ispirato da avvenimenti reali magari non è proprio questo qui di questa storia il caso però ripeto non possiamo saperlo però noi che ne sappiamo che da qualche parte nel mondo in questo momento una cosa di questo tipo non stia venendo attuata noi non possiamo saperlo ragazzi è impossibile però diciamo che non è una cosa così difficile da credere che qualcuno abbia fatto qualcosa del genere quindi a questo punto io lo chiedo a voi voi che cosa ne pensate di questa storia? che ne pensate della storia di Baby Burger? ricorda un po' anche la storia di Joe Metheny se ci fate caso il tizio che accoppava persone e ci faceva gli hamburger che poi vendeva nel chiosco e ripeto è roba vera successa non è difficile credere che una cosa del genere accada quindi niente vi lascio in questo interrogativo questa volta perché la risposta non ve la so dare neanche io e ci mancherebbe pure che io vi metta a darvi risposte che non ho non esiste quindi ragazzi spero di avervi inquietato abbastanza questa storia qui grazie a tutti per aver ascoltato e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti